musica 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 salve a tutti i friends a questo supercorris eccoci qua te gamer eccoci qua e acquista e vendi che potremmo andare a acquistare oggi raga? ma no dai allora andiamo a vedere se possiamo fare una gara col cliazzo perchè ma perchè c'è nato questo? ma non ho capito non ho capito perchè abbiamo questa macchina qua ma ma che ha fatto? non mi ha salvato manco il cliazzo vabbè andiamo a comprare un'altra macchina no eh mio amico queste sono tutte le auto che hai mai posseduto però ci sono delle lacune nella tua collezione dovresti rimediare e tu dovresti fare i cazzacci tuoi capisco perchè non abbiamo il cliazzo boh oh ma prepariamo la mercedes ma prepariamo questa qua ragazzi già è bella cattiva vai ah messo a punto scusate provate la fortuna la porsche del 2004 va bene non mi ricordo come si fa ad andare sulle preparazioni auto ragazzi sto poi io giocando a tanti giochi diversi poi quando vabbè vabbè dai o se preferisci una cosa più impulsiva potremmo farci catapultare direttamente all'Hotwillspark che ne dici? appena possibile fare inversione oh non si può guidare ragazzi ho sbagliato a preme faccio sempre le cazzate è molto inguidabile questa mercedes però è bella questo è una delle poche che mi piace ho pure dentro partecipiamo all'evento dai eh non ce la fa fa tutta vanno non ce l'ho qua non ce l'ho qua ce la fa fa dai pure rara pure rara ragazzi come al solito iscrivetevi a questo e al primo canale supercorris 84 lasciate un like seguite su tutti i miei social sul canale telegram delle offerte supercorris offerte amazon dove tutti i giorni metto le migliori offerte di amazon in ambito tecnologie videogiochi su fruit hub e su twitch nonché sul canale ufficiale supercorris 84 di telegram per l'immisimente prima e i sondaggi per scegliere come si fa sul canale com'è 50 giri oh minchia era inguidabile questa ah vabbè ma 50 giri no eh cazzo ma buona ne ha fatta cosa no perchè fa cosi sto gioco perchè fa cosi sto gioco ma buona ma siamo qua proviamo a fare un'altra gara di questa qua quante costa qua ma davanti a vedere i van i van quelli la australiani australopitechi e mi voglio capire quanto costa minchia 62 mila euro le levia manco qua possiamo fa' questa si una giaca una giaca in alto alto il soprone e babà ah ma sempre la stessa sempre 50 giri però tre giri questa dai proviamo beh dai con il soprone va bene stiamo facendo abbastanza cagare ma stiamo facendo abbastanza cagare ma ebba sto ancora al primo giro ragazzi questa è lunga ebba afex giro 2 aaaah minchia rava mandava fuori io ebba ebba u beh ragazzi dai me la stocca va bene un po' larghetto ottimo giro andiamo a vedere se ce la facciamo un po' larghetto guarda ragazzi mi ha fatto una gara buona vediamo all'arrivo qua che succede ce l'abbiamo fatta? e vai cazzo datemi la moneta bene quanta moneta abbiamo preso? minchia è così poco ma fa qualche garetta con gli altri va allora dovremmo pure preparare la ragazza sopra perché ci stiamo a fare una marea di gare ancora la prepariamo mai ma nuova che è questa? scusa no no stiamo procedendo verso la nostra prima avventura continua così facciamo tutti il tifo per te grazie potenzialmente mi ha preparato il suo prazzo va ricambi per il motore? li trovi qui vai 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 a mettere la marmittazza collettore via ehi che c'era un po' di roba già stuprazzo quanta stiamo a vento? se no spendo un po' di soldi eh oh il turbo quello ci vuole 162 kilowatt abbiamo pure intercollar maggiorato che è baa scegli le parti io farò una proiezione dei costi ecco il totale attuale vuoi continuare a lavorare o installiamo tutto? mettiamo mettiamo non vediamo il kit carrozzeria ragazzi minchia penso che la carrozzeria non la metteremo vai va ma che l'abbiamo preparata andiamo a vedere come va e andiamo a fare qualche garetta ma ragazzi vorrei capire cosa dobbiamo fare qua di buono gira a destra vai proviamo a fare quest'altra e ci rifa prendere il corbettazzo ma abbiamo preparato il suprazzo oio oio ma andato quello ma andato mi ha ammazzato tre giri Oh cazzo Non ho visto la curva No Merda Arrivati le coglioni Ah ma cazzo Ma ci proviamo Ci proviamo Sei botta dentro Carris Quanto sappia di scia Ah Bagar Ah tatti sterrati Ma che è quello Ah inversione di marcia Ragazzi Oh ne cazzo Macella Che sto dodici Ah terzo Non ho capito Se è lui che sta Dettando le regole Oppure se è la pista Che è così Sei botta dentro La Lamborghini Carris Tutta distrutta Come la nostra Dai raga Inseguimento Lercio Di super Lo vede Lo percepisce Si avvicina Poi adesso C'è l'inversione Di marcia Arrivano tutti Bello Perché bisogna Stare attenti Però non più agli altri Oh cazzo Non mi era accorto No Eh raga Difficilmente Lo prenderemo Sto a scappare di nuovo Sta là Ma non lo pigliamo Anche perché noi ci abbiamo Per la macchina lenta Questa corvette E' quella stock Del gioco Non è che cammina Più di tanto Non l'ho manco preparata Però si avvicina Corris Si è buttata Questa è 30 Fuck Però quando abbiamo sbagliato Pronti all'inversione A U Non so Manco se c'è il freno a mano Sto gioco Come si tira No Perché è conclusa quinto Ma che è successo Ma stavo primo Pezzi di merda Vabbè ragazzi Ho fatto con crude quinto Capito di Spera In qualcosa di più Vabbè ragazzi Qualcuno ha voglia Di Horizon Arcade Beh è il posto migliore Per giocare E fare acrobazie Ottenendo punti Per il negozio Portato Preparati a fare Nuovi amici E divertirti Un mondo Sarebbe Non ho capito Che cazzo Abbiamo fatto Qua Ok Stick Ho disabilitato Le gare testa A testa Per te Resto in una carovana Quindi probabilmente Giocheremo online Marcesso in ottime condizioni 5 4 3 2 1 Via Ma via cosa Round 1 Iniziato Supera Quel rilevatore Di velocità Vedi quel rilevatore Di velocità Ti mostra i tuoi fan Che cosa sai fare Tra 200 metri C'è la destra ? Van Vedi Cazzo d'ho fa, no torna l'a Un'altra volta Ho capito, voglio, in discesa dobbiamo andare Tra 200 metri, gira a destra Round 1 completato, vai al round 2 Attraversa a tutto gas quella zona di velocità Zona di velocità in arrivo, voglio che tu ci dia dentro come non mai 300 metri, gira a destra Tutto molto bello ragazzi Tra 400 metri, gira a destra Gira a destra Gira a destra Gira a destra Ma caga Giorno di velocità, resta sulla strada e vai a tutto gas Bello, bello, gli autovelox Eszie da ! Bacana Gira a destra Giουμε PC Ringat Andiamo a Gio, andiamo Ok, ottieni dei punti per ogni secondo trascorso oltre il limite di velocità Non dovrebbe risultarti troppo difficile Tra 200 metri, gira a destra Ah, no, sabato voglio che stiamo a fare E sto a seguire quest'altro Ah, pazzesco voglio Ma dove sei andato? Guidami tu, frate Oh, ma vedi? Qual è la velocità limite? Grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vado a dritta. Cazzo me la prego, me ne saldano stessi punti. Oh, Madonna. Oh, no. Dai, sta finita un po'. Ciao, vaglio.